A Monde quest'anno c'è una nuova sezione delle proiezioni che è Green Screen dedicata alla sostenibilità alle tematiche ambientali. Con il Tempo dei Giganti racconti di queste tematiche e quanto il cinema può essere utile e fondamentale per sensibilizzare verso questi temi? Il cinema è un'arte che risveglia le coscienze, gli occhi, soprattutto se condivisa per esempio in una situazione come questa, in un festival così raccolto e intimo come Monde. Il nostro film parla appunto della più grande fitopatologia che ha colpito il Salento e la Puglia con il batterio della Xilella che ha devastato un intero territorio e ha attaccato un simbolo come quello degli olivi. Quindi il cinema nel nostro caso in qualche modo è un campanello d'allarme e in qualche modo prova ad aprire, a squarciare un velo al di là della cronaca giornalistica. Il cinema ha quello di andare in profondità, di raccontare di solito quello che magari l'informazione può raccontare in un minuto di un servizio giornalistico. Il cinema ha questa grande possibilità, quello di riflettere e far riflettere. E l'ambiente penso che sia diventato ormai una delle tematiche centrali su cui non si può far finta di niente. E quindi benvenga che un festival dedichi una propria sezione a film di tematiche ambientali.